Bruninho sul più tre per casa Modena deve reagire Trento in questo terzo set e Bidarelli il tocco Stokre con Wanto Re nel suo attacco, ancora Coyne difesa Bruninho per Coyne, la pipe si sente il decimo punto per casa Modena adesso è spettacolo puro da parte della squadra di Bagnoli e Bruno ci mette tanto del suo, guardate dove ha giocato questa pipe, con che precisione e tempismo Dolce ve chiama il time out ovviamente momento difficile